io volevo ricordare un mio caro collega e amico andrei varlamov che lavora a roma deve essere ancora nel cnr come me che ha scritto dei libri di cucina scientifica lui è un fisico e quindi dal punto di vista di un fisico i miei piccoli clip sono io sono un chimico fisico lavorato però molti anni con i fisici e tuttora sono in un dipartimento di fisica però così le mie le mie clip hanno un taglio un po diverso ma comunque complementare